Lele Adani o Daniela Adani, quando parla sia della Juve che Allegri, come dico sempre, deve sciacquarsi la bocca. Io dico, ma lui, come si permette, con delle affermazioni su Massimilano Allegri, lui che non capisce niente di calcio. Prima di continuare a approfondire, come sempre, vi ricordo, iscrivetevi al canale, lasciate like, commentate, attivate la campanellina. Ma dopo la sigla approfondiamo Lele Adani, che apre troppo la bocca. Buongiorno, buona domenica. Sbraita troppo per i miei gusti. Allora, qualcuno può dire, ma meglio parlare di calcio, parliamo di calcio giocato. No, oggi voglio parlare, questa mattina, proprio di Lele Adani. Di un personaggio che, pur di fare notorietà, ha preso come vittima Massimiliano Allegri. Quindi, attenzione, non è che io prendo le difese di Massimiliano Allegri, uomo allenatore, io prendo le difese dell'allenatore della Juventus. E Lele Adani non deve permettersi di dare delle affermazioni, che vi vado subito a leggere, sull'allenatore che ad oggi fa male. Ad oggi forse non sta facendo bene, rischia il posto, ma è pur sempre allenatore della Juve, pur sempre allenatore vincente. Lele Adani afferma, la Juve ha fatto schifo. Su Allegri, non sa nulla di calcio, di padel, di ippica, di ping pong, non sa niente. Ma scusami, carissimo Lele Adani, io ti voglio dire una cosa. Innanzitutto andiamo subito a vedere le tue bacheche, i tuoi trofei, le tue presenze nazionali. Partiamo la tua carriera calcistica. Prima che parli di calcio, tu che non ne capisci niente, che il calcio per te è qualcosa veramente di extraterrestre. Lele Adani inizia la sua carriera nella San Martinese, con tutto il rispetto. Poi Modena, Lazio, Brescia, Fiorentina, Inter, Brescia, Ascoli, Emboli, San Martinese. Parliamo di un giocatore che non ha mai militato, a parte l'Inter, che vince in tribunale, non ha mai militato una squadra che arrivava tra le prime quattro in classifica in Serie A. Il nazionale, signori miei, questo Lele Adani, ha fatto 14 convocazioni, 5 presenze, tra cui tutte amichevoli. Cioè, fin qua capiamo che nel calcio italiano non si è esistito, in nazionale non ti hanno cagato, e poi non finisce qua. Albo d'oro, trofei di Lele Adani. Un campionato di Serie B nel 1997, una Coppa Italia con la Fiorentina. Allora, carriera di allenatore, vice al Vicenza. Ora dico io, carissimo Lele Adani, ma come ti permetti di sbraitare, offendere una persona che di calcio oggi può essere forse carente? Sappiamo tutti, Allegri, come sta andando. Molinatore che ha vinto tanto, ha fatto dei finali Champions, l'ha perso, lo sappiamo. Ma tu, Lele, tu non vuoi attaccare un allenatore della Juve, perché la Juve è il top. Tu sei in basso, solo per cercare notorietà. Perché parliamoci chiaro, caro Lele Adani, se non era per Sky che ti prendeva a fare il commentatore, quel che che sia, nessuno ti conosceva. E lì per cercare di rimanere su Sky non facevi altro che attaccare sempre Allegri, anche quando vingeva. Poi Sky, ovviamente, si chiude la vostra storia e ti prende la Rai. Alla Rai ancora, deve fare il personaggio il signore Lele Adani, attacca ancora Allegri. Poi grazie a Bobovieri ti porta nella sua TV. Bene, inizia a fare teatro. Qual è la tua parte recitata, quella di attaccare Allegri? Ma Allegri, allora, uno, noi tifosi possiamo a volte attaccarlo e attaccarci alle prestazioni. Ma noi siamo almeno tifosi della nostra squadra. Tu sei un tifoso avversario. Sei uno che, secondo me, di calcio non ne capisci niente. Perché si vede quello che hai fatto in carriera, degli appunti che mi sono preso. Praticamente, Lele, tu di calcio oggi non devi parlare. Ti devi limitare a dire, forse, quello è un bel passaggio, quello è un bel tiro. Ma tu devi lasciare in bacio Massimiliano Allegri. Perché quello che ho in fronte a te è un signore. È uno che ha vinto tanto, è uno che ha fatto bene al Cagliari, ha fatto bene al Milan, ha fatto benissimo alla Juve. Oggi è in declino, un allenatore non può vincere sempre. Ma tu non hai vinto niente. E ti permetti di sbraitare, ti permetti di parlare. Tu, ma tu chi sei Lele Adani? Tu chi sei? Chi sei? Sei un commentatore inventato. Che in cerca di notorietà attacca gli altri. Ma veramente, dico, ma a volte, quando prima di dire a un allenatore di calcio che non sa niente di calcio, di padel, eccetera. Ma veramente, ma conta fino a 100, conta fino a 10, conta fino a 10 proprio tu. Io potevo capire che a lamentarsi, anziché essere Lele Adani, non dico Cristiano Ronaldo o Messi, giusto? Perché sono i re, i di del calcio dopo Maradona e Pelle, eccetera. Ma magari a lamentarsi era, che ne so, faccio così, un esempio. Un esempio di un avversario della Juve che può essere, che ne so, magari Francesco Totti. Così, faccio un esempio. Ancora, ancora, un po' di... Francesco Totti è stato un calciatore che ha fatto la sua carriera, campione del mondo, ha vinto uno scudetto. Sappiamo che è stato cercato da Real Madrid. Parlava magari di Totti, potevamo dire, ci sta. Ma Lele Adani no. Lele Adani deve stare solo muto. Deve stare solo zitto quando parla di Allegri. Se cerchi notorietà, vattene al grande fratello. Vai al grande fratello VIP e lì vai a fare quello che vuoi. Ma lascia in baci Allegri. Lascia in baci la Juve. Lasciaci in baci. Perché, credimi, già è tanto che faccio questo video e ti devo perfino nominare, perché se ti noti do notorietà. Lì già sto sbagliando, ma ci tenevo a fare questo video. Perché lo ripeto e lo dico. Noi tifosi già sbagliamo quando attacchiamo il nostro allenatore. Ma tu non ti devi permettere, carissimo Lele Adani. Non ti devi permettere, perché parla. I dati. Parlano i dati. E i dati cosa dicono, caro Lele Adani? Dicono che tu in carriera, nel calcio, hai fatto poco e niente. Allora mi dovrei mettere io, ogni volta, a dire delle tue sconvitte nel calcio. Delle cinque presenze nazionali. Dei zero scudetti. Di una coppa Italia e di un campionato vinto in Serie B. Carissimo Lele, fai una cosa la prossima volta. Quando parli di Allegri, come dico sempre, sciacquati la bocca. Signori miei, questo video qui finisce. Perché poi inizio io a sbraitare, a sbagliare, a parlare. Come sempre vi invito. Iscrizione al canale. Attivate la campanellina, like e poi commentate. Perché io voglio sentire il vostro parere. Che siete giuventini, che non siete giuventini. Ma se siamo coerenti. Uno anticalcio come Lele Adani. Che attacca un signore come Allegri. Perché Allegri quello che ha vinto merita rispetto. Che poi merita l'esonero e un altro paio di maliche. Mi raccomando. Come dico sempre, anche in siciliano. Ossa benedica a tutti. E mi ne voglio. Buona domenica. Ciao. Fino alla fine. Forza Juventus. Lele Adani out.